Siamo pronti, siamo pronti a questa grande esperienza con un mezzo piccolo, sembra una smart, oserei dire, però come vedete è ben organizzato, soprattutto ben rappresentato, sperando che gli amici dei centri sociali lo facciano arrivare a fine di questo tour sobrio. Andiamo a vedere com'è. Bene, direi che spazio ne abbiamo, volantini, manifesti, soprattutto moduli per raccogliere le firme ce li abbiamo. Eccoli qua, voilà. Che forma c'è il SEM, ce li abbiamo tutti. Fille fondamentali anche queste, chiaramente per identificarci come se non bastassero le coreografie che abbiamo fuori, però no, lasciamo carichi perché sarà un mese lungo, un mese complicato, ma ci divertiremo, ma soprattutto faremo del bene.